Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale! Oggi noi vi faremo vedere tutti i passaggi della rovesciata indietro. Vediamo il primo passaggio. Qual è il primo passaggio? Il? Il ponte. Ok. Fai vedere come si mettono le mani nel ponte? Ok. E si dà la spinta e si sale. E si sale. E dobbiamo cercare di spingere le spalle sopra le mani. Fai vedere, Catalina. Esatto, e spingo le spalle. Secondo passaggio. Ponte da in piedi. Ok, si può iniziare con le gambe divaricate e si spingono sempre le spalle. Esatto. Così passa al ponte con le gambe chiuse. Con le gambe chiuse. Giusto. E piano piano si inizia ad alzare una gamba, alzare l'altra. Fa vedere Catalina. Beh? Cos'era? Catalina, rifallo per piacere. Sì. Ok, alziamo una gamba. Tiriamo giù, alziamo l'altra. E ok. Vabbè, ancora non si andrà. No, si inizia dal ponte. Fai il ponte. Ponte dall'alto. Dall'alto. Ok. E si spingono forte le spalle per andare di là. La gamba sotto spinge. Giusto, vai. Ponte. Si spinge con la gamba sotto e arrivo. Ok. Si cerca di scendere con una sola gamba. Fino poi ci si allena, ci si allena, ci si allena. E alla fine si riesce a fare l'intera rovesciata indietro. Fatela bene, insieme, bene tirata. E arrivo. Ok. Ci vediamo al prossimo video.